Sì, sì, anche sulla galleria, su Piazza Garibaldi, noi abbiamo un problema che è un problema diciamo dei senza fissa dimora, che stiamo affrontando, l'assessore sta affrontando in maniera molto energica. È un problema complicato perché per quanto abbia aumentato l'ospitalità convincere i senza fissa dimora ad andare in un dormitorio pubblico è un'operazione molto difficile e anche quindi questo però è un tema fondamentale che noi dobbiamo affrontare. Poi sulla galleria c'è un problema di gestione complicata perché in realtà la maggior parte della galleria è privata quindi bisogna trovare una formula di gestione che riesce a mettere insieme ovviamente l'interesse pubblico, quindi la capacità ovviamente di riuscire a gestire la parte pubblica della galleria anche con i privati, ci sono anche dei contenziosi in atto che abbiamo ereditato dal passato, è un tema molto importante che noi affronteremo con energie e cercheremo di risolvere.